buonasera a tutti io credo che siamo in diretta ecco se qualcuno magari solo per adesso mi scrive in chat se si vede e soprattutto se si sente pace bene a stefania cobetti mi dite se si sente sì ciao perfetto grazie carla grazie grazie a tutti perché è un modo un pochino strano un pochino buffo di incontrarci però questo ci abbiamo in questo momento e questo facciamo quindi benvenuti a tutti vi chiedo scusa perché soprattutto per chi ha mandato le mail dei vari cambi di piattaforme tutto il resto alla fine abbiamo optato per youtube che ha una serie di vantaggi intanto a un numero illimitato di persone che possono partecipare ringraziando il cielo avete risposto in tanti adesso non so in quanti vedremo questa cosa però il vantaggio l'altro grande vantaggio di youtube che queste registrazioni poi resteranno nel canale quindi nel canale che voi avete visto la barba di aronne poi troverete una playlist in cui ci saranno i vari incontri anche i prossimi che faremo quindi saranno lì poi a disposizione per poter essere rivisti ecco ringraziamo il canale della barba di aronne che ci ospita in realtà so sempre io la barba di aronne cos'è è stato il frutto del mio lockdown ecco durante il lockdown c'è chi ha fatto la pizza chi ha fatto il pane io ho fatto la barba di aronne una serie di incontri sull'ebraismo spiegato ai cristiani potete magari qualcuno già dato un'occhiata non c'è bisogno come avete visto di fare niente per poter vedere video non c'è bisogno di iscrizioni ciò nonostante se non l'avete fatto e volete iscrivervi al canale io ne sarei particolarmente contento perché mi aiutate a far crescere il canale della barba di aronne quindi basta cliccare sotto dove c'è il pulsantino con scritto iscriviti e poi la campanella per per ricevere i pro memoria se fate questa cosa magari date anche un'occhiata a quei video che sono video secondo me molto 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 carini molto belli questo percorso perché abbiamo pensato sapete questo lo dico anche per chi conosce poco le nostre realtà e questo percorso si inserisce all'interno del circuito della pastorale giovanile e vocazionale dei frati del palatino che quest'anno coinvolge anche noi qui a laracelli e anche san francesco arriva è un corso uno dei corsi però aperto a tutti quanti a tutte le fasce d'età l'abbiamo diffuso nelle nostre fraternità offse nelle nostre fraternità gifra un pochino in giro è un corso un percorso non un corso non usiamo paroloni che non ci hanno troppo senso un percorso biografico puramente biografico al quale io tengo tantissimo perché credo che la storia la vita di francesco puramente biografica anche se poi parleremo comunque della spiritualità di francesco è qualcosa che latita sempre un pochino dai nostri dai nostri corsi e percorsi più classici non si parla tanto della spiritualità si parla tanto di alcuni temi particolari di francesco ma alla fine la vita di francesco ha delle sorprese incredibili io me ne accorgo quando poi finisce che parliamo con delle persone dicono oddio non sapevo che francesco da sisi avesse passato anche questo anche quest'altro e tutto il resto e questo proprio già dal titolo no io sono francesco che è un titolo che capite bene abbastanza chiaro cioè sembra proprio un diktat un diktat preciso in cui francesco dice questo sono io ma anche dice io sono francesco perché perché la figura di francesco è una figura così polietrica così grande così ricca e piena intanto delle benedizioni del signore ma di tante tante sfaccettature che nel corso dei tempi in ogni aspetto letteratura cinema teatro musica qualsiasi cosa abbia trattato francesco chiunque ha potuto far dire a francesco da sisi qualcosa questo proprio perché è una figura così grande così importante così bella che chiunque ha potuto mettere all'interno della figura di francesco qualcosa ma noi possiamo in qualche modo ritornare all'origine cercare di vedere chi era francesco da sisi ecco in qualche modo non è semplicissimo stiamo parlando di un uomo di 800 anni fa però in qualche modo lo possiamo fare lo possiamo fare attraverso le fonti primarie che noi abbiamo le sue biografie che è quello proprio che questo percorso cercherà in qualche modo di fare lo fare il percorso anche per la grande affluenza di persone sempre dico ringraziando dio ha cambiato un pochino il calendario rispetto a quello che alcuni di voi hanno ricevuto quelli che mi hanno mandato la mail hanno ricevuto ve ne accorgerete strada facendo non ci sono stati i cambi sostanziali sono stati eliminati un paio di incontri aggiunto un incontro sostitutivo che sarà quello più o meno natalizio su diciamo che riguarderà l'aspetto dell'incarnazione francesco da sisi dell'amore che francesco avesse aveva per l'incarnazione quindi soprattutto il presepe di greccio e finirà poi almeno un punto di contatto con la barba di aronne ce l'abbiamo e ha un senso per cui video sono qui sulla barba di aronne finirà il 16 gennaio che è la giornata ogni anno è la giornata del dialogo ebraico cristiano e finirà io mi auguro vivamente in presenza però vediamo cosa succede con un incontro dal titolo francesco uomo libero è un incontro in cui cercherò di presentarvi uno studio che io ho fatto nel quale ho tentato di illuminare i punti di contatto che ci sono fra francesco da sisi e l'ebraismo io però ho fatto questo cappello un po lungo sono sei minuti che sto parlando adesso ho l'orario davanti quindi cercherò di non essere lunghissimo ma l'ho fatto più che altro per permettere alle persone di iniziare a collegarsi e quindi invece partirei proprio con l'incontro di questa sera non fare cercherò sempre di non fare incontri troppo troppo lunghi anche perché sono le nove di sera usciamo da giornate intense e impegnative e questo primo incontro vi chiedo un attimo di poi lo potete riascoltare eccetera di seguirmi perché è un incontro introduttivo come è giusto che sia quindi è un incontro in cui se non in una brevissima parte finale non inizieremo a parlare veramente della storia di francesco lo faremo ripeto negli ultimi cinque minuti dove ci diciamo qualcosa sulla sua nascita e sulla sua giovinezza è un incontro in cui parleremo invece faremo una introduzione proprio sulle biografie di francesco su questo libro che la maggior parte di voi probabilmente conosceranno le fonti francescane un libro che raccoglie al suo interno tutte le cose le fonti biografiche su francesco da sisi e c'è una parte una buona parte una parte piuttosto ricca anche su chiara da sisi quindi tutto quello che è stato scritto su francesco da sisi c'è il canto del di dantalighieri per esempio ma soprattutto tutte le grandi la grande massa di biografie sono raccolte appunto nelle fonti francescane e quindi capite bene che il problema è ok io leggo le fonti per chi è più addentro alle cose chi le fonti francescane l'ha già aperte sa che di biografie ce ne sono una quantità sterminata allora questo incontro vuole raccontandovelo così facendoci davvero due passi dentro a questa a questo a questa porzione di storia vuole cercare di darvi delle coordinate all'interno del mare magnum delle biografie francescane perché è importante quando noi ci troviamo davanti a una biografia sapere intanto chi l'ha scritta e quello vabbè si sa si sa chi è l'autore ma sapere per esempio il motivo per cui l'ha scritta che è una cosa fondamentale perché a secondo del motivo in cui una persona scrive è chiaro che veicolerà un messaggio piuttosto che un altro non è una cosa molto molto strana se ci pensate quello che in qualche modo succede per esempio nei vangeli i nostri evangelisti i nostri quattro vangeli vengono scritti per esempio per delle persone ben precise matteo scrive agli ebrei quindi matteo avrà interesse a scrivere a comunicare agli ebrei delle cose ben precise con questa è una tecnica letteraria molto comune succede ovviamente anche per francesco d'assisi quindi ci serve c'è decisamente utile capire come muoverci all'interno delle delle biografie delle fonti francescane allora iniziamo subito col col dire con l'affermare che non c'è nell'ambito delle biografie medievali siamo ovviamente nel medioevo sapete francesco nasce in una data imprecisata 1181 1182 e non c'è un caso altrettanto ricco all'interno delle biografie medievali come quello di francesco d'assisi e questo già ci apre a due prime osservazioni intanto sicuramente la posizione privilegiata che gode la figura del santo questo santo di assisi gode di una di una posizione sicuramente privilegiata perché perché hanno raccontato tanto su di lui ma di contro qual è l'aspetto negativo di questa cosa ovviamente il fatto che c'è una maggiore complessità nell'analisi della figura del santo la grande questione francescana cioè cercare di risalire ai tratti almeno ai tratti essenziali del santo cosa che è particolarmente complicata proprio perché ce lo raccontano in tanti e in alcuni casi anche in maniera contraddittoria lui sicuramente possiamo allora se vogliamo dobbiamo capire questa cosa se vogliamo chiederci se sia possibile tracciare una storia della vita di francesco d'assisi la risposta è sicuramente sì anzi possiamo dire che se non lo possiamo fare di lui probabilmente non possiamo farlo di nessun altro è chiaro che quando io dico storia parlo di storia con un concetto che non è il concetto nostro di storia che è un concetto ottocentesco una storia molto cronologica precisa vi ho detto all'inizio noi non sappiamo francesco quando è nato ma la sua data di nascita viene fatta viene recuperata andando a ritroso rispetto alla data di morte agli anni che aveva quindi 181 182 però quindi se noi vogliamo sapere che cosa francesco d'assisi abbia fatto abbia detto abbia mangiato il giorno che poi il 3 ottobre poi è morto questa cosa è praticamente impossibile però la ricchezza del materiale ci permette sicuramente di tracciare un profilo storico del del santo di assisi ci fa tracciare un profilo storico del santo di assisi anche se richiede come vi dicevo una profonda analisi ci sono tanti biografi vi faccio subito un esempio tommaso da celano voi lo sentirete nominare molto molto spesso da me perché perché è stato forse il più grande biografo di francesco ha scritto tre biografie ufficiali grandi una ad uso del coro quindi ad uso liturgico una quarta che è appena stata appena no da pochissimo tempo addirittura ritrovata quindi tommaso da celano un nome che sentirete molto molto spesso tommaso da celano quando descrive i genitori di francesco nella sua prima biografia quella che veniva chiamata e era ricordata come la vita prima e quando lo fa nella vita seconda usa termini diametralmente opposti nella prima vita tommaso descrive pietro di bernardone e madonna pica come dei genitori quasi de generi che hanno abituato i figli a vivere nelle ricchezze nel vezzo e tutto il resto nella seconda vita cambia completamente una figura di una famiglia invece una famiglia vicina al santo una famiglia buona non è impazzito celano questo lo vedremo poi strada facendo il motivo per cui c'è questo e non ve lo spiego adesso però vi dico contraddizioni del genere ce ne sono molto spesso per questo è importante capire di che cosa parliamo quando parliamo di biografie francescane perché rischia non capirci niente o peggio ancora io credo che sia un rischio peggiore farci delle biografie ad hoc farci delle biografie molto frankenstein ognuno prende un pezzetto da quella che gli piace di più e si crea un francesco d'assisi intanto può essere sicuramente utile fare una divisione una classificazione delle delle biografie di francesco io uso vi propongo la suddivisione che ne ha fatto ormai un po di tempo fa ma che io ritengo ancora profondamente valida anche perché è stato uno dei più grandi forse più grande studioso di francesco che raul manselli ecco il libro di raul manselli san francesco d'assisi nell'edizione mayor lo trovate nelle edizioni san paolo è il libro che io considero un po alla base di questi nostri incontri quindi se se ce l'avete volete dargli un'occhiata volete prenderlo raul manselli è davvero uno scrittore è uno uno storico uno studio sui francesco enorme maestro di don felice a crocca quindi davvero il padre di tanti studi francescani e il manselli divide le biografie in in due categorie grandi che già ci dice qualcosa su che cosa significa seguire le biografie francesco le divide in biografie ufficiali e biografie non ufficiali allora le biografie ufficiali quali sono sono quelle scritte su commissione per così dire ufficiale intanto biografie commissionate dal papa e guardate che è un unicum per francesco d'assisi che in realtà si ripresenterà solamente per chiara d'assisi che il papa chiede che venga scritta una una biografia e quindi ufficiali perché commissionate vi dicevo dal papa o per esempio dall'ordine dai ministri generali buonaventura da bagnoreggio scriverà come ministro generale la sua biografia quindi sicuramente una connotazione ufficiale a fianco alle biografie ufficiali l'altra categoria può essere considerata quelle non ufficiali ossia tutta quella serie di racconti di scritti che persone che hanno conosciuto francesco i suoi stessi frati un singolo frate magari come succede per una biografia che si chiama lo specchio di perfezione decidono di raccontare la loro esperienza con il santo queste biografie non ufficiali noi le troviamo o che hanno un'organizzazione sistematica quindi che hanno un preciso come dire intento redazionale hanno uno scopo redazionale ben preciso vi ho detto lo specchio di perfezione è una delle altre grandi biografie vuole portare il lettore a capire chi è francesco e francesca uno specchio nel quale specchiarsi e poter per poter correggere la propria vita quindi sistematicamente ordinate ma anche biografie senza almeno senza un apparente ordine redazionale semplicemente una serie di racconti alla fatta questa suddivisione quindi vi ripeto biografie ufficiali commissionate dal papa dall'ordine quindi con uno scopo ben preciso biografie non ufficiali fatte da persone che hanno conosciuto il santo un frate un gruppo di frati i cittadini di assisi fatta questa suddivisione però io entrerei un pochino nella storia no cioè alla fine mi chiederei ma perché francesco d'assisi ha tutta questa questo materiale che non è una domanda scontata questa affluenza di ricordi insieme al fatto e la necessità di doverli continuamente riattualizzarli viene dal fatto che è fondamentale che con francesco d'assisi sembra nascere il concetto di padre fondatore prima non c'era l'idea di fondatore di un ordine e vi faccio un esempio per farvi capire bene domenico domenico di guzman san domenico contemporaneo di francesco grande predicatore grande maestro fondatore dell'ordine domenicano che è l'ordine dei predicatori eppure di domenico non si conserva praticamente niente dell'idiota come si chiamava lui non lo sto chiamando io francesco si conservano tantissime cose questo significa chiaramente due cose intanto che lo stesso ordine ha di francesco e dei suoi scritti un'idea una concezione che i domenicani non avevano degli scritti di domenico tant'è vero che dopo i domenicani corrono a ripari cercando di recuperare tutto il materiale che domenico aveva scritto e poi un'altra cosa importante per tutto questo materiale che fa diventare questo materiale importante è che francesco stesso in alcuni scritti assegna alla parola un significato un'importanza particolare un significato un'importanza che vengono subito recepiti dai frati qual è il punto perché francesco gode di questa di questa fama perché francesco con francesco nasce l'idea di fondatore perché quando francesco muore francesco è un santo annunciato quando francesco muore muore un santo muore qualcuno di cui la santità non era minimamente messa in dubbio era addirittura già disputato se lo ridicavano già prima di morire andiamo un attimo alla storia facciamo un salto dobbiamo ancora iniziarla ma andiamo al momento che muore noi sappiamo che gli ultimi momenti della sua vita francesco li finisce in porziuncola e qua è il primo episodio che fa capire l'alta considerazione di francesco al momento che muore e di come si pensa davvero che stia morendo un santo cosa succede quando francesco muore in porziuncola arrivano i cittadini di assisi scendono da assisi verso la porziuncola e arrivano con l'esercito sarà l'esercito a scortare francesco da santa maria degli angeli ed assisi e questo perché perché c'erano degli ottimi motivi per pensare che in qualche modo il santo il corpo del santo per quanto brutto ci possa sembrare noi potesse venire razziato potesse venire preso probabilmente da perugia perché un santo è un santo importante voi sapete bene che ieri come oggi un santo in una città significa pellegrinaggi significa visite significa lumini e diciamo in qualche modo ovviamente significa soldi no significa fama ecco fama l'importanza per il luogo che conserva il santo tant'è vero un secondo una seconda nota in questo senso ci viene dal fatto che francesco non viene portato dai frati quando da santa maria gli angeli sale d'assisi in cattedrale cosa che probabilmente sarebbe stata logica se sta morendo una persona così importante sta morendo un frate così importante sta morendo un santo è giusto che se ne vada in cattedrale però i frati probabilmente furbacchioni come sempre e che cosa hanno detto se noi lo mettiamo in cattedrale il vescovo non lo farà più uscire da là la cattedrale diventerà in qualche modo il centro nevralgico del culto a francesco immediatamente dopo la morte francesco inizia la costruzione da parte di fratellia della basilica che noi oggi ancora possiamo visitare quindi francesco viene intanto poggiato da morto nella chiesetta di san giorgio che oggi non esiste più più o meno corrisponde alla segrestia di di santa chiara in attesa che venga finita la basilica dove poi il santo può entrare in assoluto trionfo in questa casa meravigliosa che stavano preparando per lui ecco perché diciamo questo perché vi sto dicendo che muore un santo perché questa fama di santo nel bene nel male influenza i suoi scritti i ricordi le memorie non solo affluiscono da subito ma c'è una vera e propria gara nel voler raccontare francesco d'assisi assisi piccola già oggi lo sapete bene perché immagino che voglio dire la totalità di voi o comunque la maggior parte di voi l'abbia visitata figuratevi cosa potesse essere ai tempi di francesco visto che l'esplosione poi c'è proprio con il culto di francesco visto che era morto un santo si sentono in dovere di dire io quel santo lo conoscevo e vi racconto la mia vita con il santo ecco perché arriva tutto tutto questo materiale perché ognuno era desideroso di aggiungere un tassello il proprio tassello personale a quel racconto a quel grande puzzle che sarebbe stata poi la vita di francesco tanto materiale complica subito le cose ma c'è un'ulteriore cosa che complica ancora di più la scena ma più che una cosa c'è un altro autore che complica la scena e quest'autore è francesco d'assisi perché in tutto questo francesco muore in un momento in cui l'ordine è devastato dalle tensioni interne ecco quel pace e bene noi lo vedremo poi strada facendo sarà qualcosa che francesco conquisterà solo con l'aiuto e con la grazia di dio perché la vita di francesco all'interno dell'ordine è stata tutt'altro che serena e serafica e molto distante dall'immagine che abbiamo noi di francesco molto giocondo il francesco il giullare di dio ecco è stata una vita vero sofferta l'ordine nella morte di già la morte di francesco ma in realtà già gli ultimi anni francesco in vita soffriva delle tensioni profonde e francesco queste tensioni ovviamente non voleva fare questo ma contribuisce a creare una eterna catena di discussione all'interno dell'ordine cosa con i suoi scritti perché oltre ad arrivare tutti i racconti francesco lascia anche questa è una cosa molto importante lascia degli scritti autografi primo su tutti ovviamente il testamento la regola senza dubbio tutta la serie di regole tantissime lettere che noi abbiamo tantissime non sono perché sono in realtà molto poche ma abbiamo lettere autografi di francesco le loditi di altissimo la piccola carta la cartula che conservata nella basilica tassisi ma soprattutto il testamento il testamento in cui francesco lascia la sua esperienza di vita lo vedremo poi durante i racconti e la lascia come esempio e come monito ai frati che ripeto vivevano delle tensioni all'interno che il testamento non solo non riusciva a calmare ma in qualche modo alimentava immaginate la frangia dei fedelissimi a francesco che diceva la voce di francesco ci dice questo i frati che nel frattempo vivevano una situazione all'interno dell'ordine che era decisamente voluta che cercavano di trovare per così dire per usare un'espressione diplomatica un compromesso fra il testamento stesso e la loro nuova in qualche modo forma di vita una discussione così forte che sono costretti a ricorrere al papa che con la bolla cuo elongati dirai frati non siete tenuti ad osservare il testamento ma solamente osservare la regola questo non calma assolutamente niente saranno tensioni che saranno sempre risolte io direi oserei da frate dire che sono tensioni che ancora oggi ci portiamo dentro e che se prese nel verso giusto ci aiutano e ci danno vita ma che all'epoca però portano l'ordine ormai orfano di francesco a doversi necessariamente confrontare con la figura del del fondatore allora per questo l'impegno continuato e continuativo di rimeditazione di riscrittura della sua vita di cercare sempre più notizie no nel confronto con la sua esperienza per chiedere a quella esperienza luce per vivere nel loro oggi è un po quello che facciamo noi quando nelle biografie cerchiamo un'immagine di francesco ecco su questo scenario che spero in qualche modo sia stato chiaro nascono le diverse biografie sono vi ripeto anni duri l'ordine aveva cambiato profondamente fisionomia no voi immaginate un qualcosa che francesco stesso nel testamento dice io non volevo non avevo idea di fondare un ordine tant'è vero che francesco all'inizio del testamento dice io non sapevo che cosa fare il signore mi mandò dei fratelli e io non sapevo che cosa fare con questi fratelli il signore mi indicò che dovessi vivere dovessimo vivere secondo la forma del santo vangelo piano piano l'ordine cambiava cambiava fisionomia e acquistava anche sempre più potere e ovviamente questo potere dava fastidio al clero secolare l'ordine in quegli anni subito dalla morte francesco andava ad acquistare sempre più autonomia rispetto al clero secolare perché perché nei grandi nelle grandi università europee a parigi a bologna o l'università di oxford iniziavano i grandi studi francescani una cosa meravigliosa una cosa bellissima ma intuite anche come si stava scostando sempre di più dall'idea iniziale di francesco d'assisi quindi la tensione era come far combaciare questa idea iniziale con queste nuove esigenze nascevano i primi grandi conventi monumentali a fronte di un testamento che dice per favore non abbiate niente di vostro abitate in casupole cercate di lavorare con le vostre mani di un lavoretto di laborizio dice il testo qualcosa che sia molto molto semplice ecco un anno fondamentale fu sicuramente così facciamo iniziamo andare un po più avanti il 1228 l'anno in cui gregorio nono canonizza francesco 1228 francesco era morto nel 1226 la canonizzazione è molto molto veloce anche che gregorio nono già quando era cardinale conosceva francesco bene quindi non c'è stato bisogno di un vero e proprio processo ma questo lo vedremo più avanti gregorio nono che cosa fa approfitta in senso positivo ma in un certo senso sfrutta l'occasione che si presenta dalla canonizzazione del santo per usare ma davvero consideratelo in senso positivo il santo ma tutto l'ordine del francescano e presentarli come l'aiuto di cui la chiesa va a bisogno per la grande riforma che si presentava come necessaria francesco i frati diventavano strumenti utili e concreti per il progetto di riforma ecclesiale che il papa in quegli anni voleva voleva fare e allora capite bene come adesso acquista senso quello che vi dicevo prima della biografia commissionata dal papa perché il papa dice immediatamente ho bisogno che mi scriviate una vita di francesco ho bisogno che ci sia una vita di francesco scritta perché perché sarà una delle armi principali per questa riforma della chiesa c'è bisogno che la gente e la chiesa conosca francesco e conosca i frati e allora commissionerà a tommaso da celano quella che poi verrà ricordata appunto come la prima biografia la vita del beato francesco questo è il titolo di oggi ma noi la conosciamo più comunemente come la prima vita del tommaso da celano il celano recepisce in questa sua prima vita la lettura che il papa dà dell'esperienza del di san francesco di francesco tassisi e insieme però a fianco alla biografia del del celano a questa prima vita del tommaso celano iniziano piano piano a spuntare tante altre biografie io ho segnato qui e vi ricordo giusto per dire nel 1241 lo scritto anonimo che comunemente è conosciuto come l'anonimo perugino probabilmente scritto da fra giovanni da perugia che però per esempio più che raccontare la vita di francesco racconta la vita dei primordi dell'ordine tant'è vero che il titolo proprio di questa biografia primordi e fondazione degli ordini quindi sono più i frati più che francesco tante altre biografie non solo queste che io vi sto nominando ma ciò nonostante nonostante questo grande proliferare di biografie la vita ufficiale il testo ufficiale resta la vita del beato francesco il tommaso da celano sulla quale però soprattutto dopo la morte di gregorio nono iniziano a concentrarsi le critiche dei frati tommaso da celano è una persona che non ha mai incontrato francesco non ha mai avuto contatti diretti con francesco era un frate e d'accordo ma non aveva contatti diretti con con francesco quindi ha recepito del materiale ha raccontato delle cose che aveva sentito però su queste cose si concentrano le critiche critiche che diventano talmente tanto e pressanti che nel 1244 il capitolo generale il capitolo è una riunione di tutti i frati che viene fatta ogni tanto ancora oggi capitolo generale che viene fatto a genova chiede intanto ammette che quella biografia ha delle lacune mostruose e chiede il ministro generale che all'epoca era crescenzo da jesi dice a tutti i frati a tutte le persone mandate tutte le vostre memorie perché c'è bisogno di integrare o di correggere quello che noi sappiamo fino adesso e a questo punto la storia si fa davvero complessa ma anche accattivante mi rendo conto che forse lo penso solo io che sia accattivante però è davvero nasce nasce una gara ancora di più di quella che c'era stata all'inizio a far arrivare il materiale ma soprattutto arriva del materiale importantissimo del materiale in gran parte oggi perso purtroppo poi la speranza magari è che spunta fuori da qualche parte con il tempo però arrivano delle delle cose molto molto importanti una su tutte sono i ricordi che da greccio i tre compagni principali di francesco che sono leone rufino ed angelo inviano accompagnandoli con una lettera nel con una lettera che è data da 11 agosto del 1246 ho segnato qualche data che non è che mi ricordo proprio tutto tutto insomma quindi ricordi dei tre compagni sono molto importanti un'altra materiale un altro materiale molto importante che arriva sono le memorie che gli abitanti di assisi spediscono perché sono importanti perché loro sono i testimoni privilegiati soprattutto di quel primo momento che è il momento della giovinezza e poi della conversione quei primi anni dove si si può raccontare qualcosa ma loro sono le persone che l'hanno vissuta con francesco a diretto contatto che hanno vissuto quella che veniva considerata una vera e propria pazzia del santo e perché loro scrivono tra l'altro lo scrivono proprio loro direttamente per correggere il celano perché una delle cose che il celano ha fatto non sapendo bene di che cosa parlava è proprio quella descrizione di cui vi parlavo all'inizio della famiglia e dell'ambiente assisiate come se fosse chissà quale luogo di perdizione alla capite bene che le persone che l'hanno vissuta in prima persona dicono guarda tommaso caro che non è come la racconti tu la famiglia di francesco era questo questo e questo noi eravamo questo questo e questo e la storia è iniziata in questo in questo modo allora basando su tutti questi ricordi e anche in buona parte su sempre sulla vita da celano un ignoto mette insieme questi racconti cittadini li mette insieme probabilmente un notaio di assisi e ne crea una propria biografia e poi che cosa fa che cosa succede prende la lettera dei tre compagni che hanno scritto da greccio quindi la lettera di leone rufino ed angelo e la mette in apertura di questa biografia ecco quella biografia poi verrà rimaneggiata eccetera è quella che ancora noi oggi conosciamo come la leggenda dei tre compagni se voi oggi leggete la leggenda dei compagni vi renderete conto che aprite e trovate lo scritto io frate leone angelo rufino siamo qui e vi raccontiamo alcuni episodi della vita di francesco passeggiando per come passeggiando per un prato cogliamo qualche fiore e ve lo consegniamo solo che il problema è che quello che leggiamo dopo non sono le memorie ma sono le memorie dei compagni ma sono le memorie dei cittadini quindi la leggenda dei tre compagni non è dei tre compagni ma dei cittadini di assisi è un caso non raro molto molto comune di pseudoepigrafia succede molto molto spesso che qualcuno firma a nome di una persona più autorevole il il proprio scritto quindi però perché vi sto dicendo questa cosa sulla leggenda dei tre compagni perché la leggenda dei compagni proprio perché quindi viene dalle fonti originarie dei dei cittadini di assisi è uno degli scritti più belli e più aderenti soprattutto nella prima parte alla realtà con questi nostri percorsi in queste nostre settimane noi ci baseremo molto sulla prima e la seconda vita di domasso da celano ma soprattutto su quella che noi ricordiamo come la leggenda dei tre compagni è arrivato tutto il materiale il celano che cosa fa lo prende vede le cose in cui sbagliato non scrive una seconda vita questo è un errore che spesso si fa che si pensa che la seconda biografia del tommaso da celano quella che il cui titolo è memoriale nel desiderio dell'anima sia una nuova biografia no in realtà un'integrazione tommaso da celano integrerà la sua prima vita con il materiale che è arrivato quindi scriverà una seconda ci sarà un secondo scritto che è un'integrazione ma il materiale sarà talmente tanto che celano ci metterà le mani una terza volta e scriverà il trattato dei miracoli quindi queste sono le prime tre biografie diciamo i primi tre approcci alla vita di francesco del tommaso da celano cerco di andare un pochino più veloce perché vedo che come al solito mio chiacchiero 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 e alla metà del 200 siamo arrivati più o meno alla metà del 200 quindi insieme al celano circolavano questi altri tresti le memorie di assisi e tutto il resto ma nasce comunque un coro di voci che rischiava di gettare in confusione soprattutto un momento in cui c'erano tanti altri problemi all'interno della chiesa e all'interno del dell'ordine mi scrivono bravissimo non so se per il fatto che ho detto che andrò più veloce comunque vi capisco vado vado più veloce era un periodo davvero di caos soprattutto all'interno dell'ordine su tutti i fronti intanto ho detto come c'era più autonomia verso il clero il clero non se ne stava a buona guardare ma la lotta si faceva sempre più aspra la memoria all'interno dell'ordine di francesco generava sempre più tensioni addirittura c'era un'eresia io non entro adesso ovviamente in queste cose che si chiama che è il gioachimismo che entra nell'ordine alcuni membri anche autorevoli in qualche modo vengono accusati più o meno giustamente di far parte di questa eresia in questo contesto opera buonaventura da bagno reggio grande ministro generale e come ministro generale cosa fa dice c'è troppo caos sulla storia di francesco fermiamo tutto e voglio ricompattare la mia famiglia per ricompattare la famiglia devo partire anche io dalla storia di francesco quindi che cosa fa c'è il capitolo generale a narbona siamo nel 1260 buonaventura dice bisogna scrivere una nuova biografia la leggenda mayor di buonaventura fu approvata nel 1263 e tre anni dopo il capitolo generale di parigi buonaventura ordina la distruzione di tutte le biografie che esistevano fino a quel momento e voi capite che questa cosa porta alla perdita di tantissimo materiale però quello che buonaventura voleva fare voleva proprio unificare tutta questa situazione voleva che la sua opera la leggenda mayor rimanesse l'unica esistente in realtà la leggenda mayor di buonaventura è che è meravigliosa e chi l'ha letta lo sa che è meravigliosa ma è anche in un certo senso pericolosa perché è un'opera storica che storica non è perché perché è un trattato teologico buonaventura vi dicevo all'inizio ci sono degli scopi buonaventura scrive un'opera teologica quindi non propriamente storica per raccontare dimostrare come francesco d'assisi sia l'altro cristo l'alter cristus quindi un'opera prettamente teologica 1263 distruggete tutto una decina d'anni dopo pentimento come giusto che fosse insomma quindi l'ordine si pente di questa decisione e nel capitolo successivo 1276 che cosa fa contro ordine tutto quello che potete recuperare recuperatelo lo so è un manicomio però è così ieri come oggi insomma noi frati siamo sempre in questa stessa maniera e tra l'altro visto che ieri come oggi noi frati siamo nella stessa maniera anche all'epoca i frati non avevano obbedito quindi ringraziando il cielo tantissimo materiale era stato salvato qual era la scusa per quale motivo era stato salvato tanto materiale perché i frati avevano detto vabbè ma questi so appunti non so biografie vere e quindi non c'è bisogno che le che le distruggiamo allora tutti quei ricordi che erano affluiti quella volta quella prima volta erano in qualche modo almeno nella grande misura salvi e così vengono presi da una serie di compilatori che cercano di rimetterli insieme di copiarli al loro piacimento per fare appunto una cercare di dare nuove tracce e nuova visione mia alla storia di francesco in questo momento nascono altre biografie molto importanti come la compilatio assisiensis come lo specchio di perfezione che vi diceva all'inizio e anche la leggenda dei tre compagni come la conosciamo noi oggi è frutto di questo lavoro di riscoperta di rimaneggiamento del vecchio materiale perché vi dico che queste sono opere preziosissime sono opere preziosissime perché proprio il manselli ha potuto dimostrare ci sono ovviamente tecniche no filologia e tutto il resto per dimostrare che quei materiali sono materiali che praticamente non sono mai passati per il vaglio della modifica della critica eccetera quindi sono materiali profondamente originali allora questa leggenda dei tre compagni come ho già detto la compilatio assisiensis lo specchio di perfezione sono biografie che in qualche modo riescono ad andare ad illuminare e ad affrescare in maniera più precisa la vita e l'esperienza di francesco d'assisi nel corso della storia le posizioni circa l'affidabilità delle varie fonti sono state sempre molto combattute e molto antitetiche gli studiosi vi dicevo all'inizio la cosiddetta questione francescana gli studiosi litigano litigano e dicono questa biografia è meglio questa biografia è peggiore questa è più è più aderente questa è più teologica ecco continuamente proprio sulle varie biografie ci sono state posizioni antitetiche c'era chi penso per esempio al sabbatie che è un altro grande studiosi francescanesimo considerava il vero francesco d'assisi solo quello tramandato dalle biografie non ufficiali c'erano altri francescano cognome bill che diceva che per conoscere francesco bisognasse ricorrere alle biografie ufficiali in particolar modo da quelle di tommaso acelano vedete due posizioni proprio antitetiche solo le non ufficiali vanno bene solo gli ufficiali vanno bene come immaginate la verità sta nel mezzo e oggi va sempre più concretizzandosi la convinzione che le varie biografie in realtà siano molto più vicine tra di loro di quello che possa che possa sembrare in passato e all'interno va ricercata la verità che ognuno di loro ancora riesce a portare per questo l'opera delle fonti è un'opera fondamentale un'opera che è fruibile in italiano solo dal 1973 un'opera profondamente fondamentale perché chi volesse studiare potrebbe in qualche modo riuscire a ricostruire attraverso le varie fonti conoscendo alcune viste guida delle quali io ho provato in maniera un po coffa a parlarvi molto molto velocemente potrebbe avere appunto delle indicazioni per muoversi all'interno delle delle biografie ma la cosa in particolare e così chiudo questa prima parte e andiamo verso la chiusura anche del nostro incontro è che l'altra cosa che oggi noi sappiamo perfettamente che non è possibile leggere le biografie di francesco se non alla luce dei suoi scritti questo perché perché è chiaro e lo capite bene che una una storia una biografia un racconto che dovesse dire qualcosa diametralmente opposto rispetto a qualcosa che ha scritto francesco ovviamente non potrebbe essere considerata come qualcosa di vero quindi soprattutto in serie storiografica ci si convince sempre più che tutto quello che è stato vissuto nella storia dell'ordine fino ai giorni nostri non possa essere semplicemente inserito in una griglia fedeltà e tradimento cioè non possiamo liquidare questa storia così bella così complessa come buoni e cattivi fedeli traditori atteggiamenti di fedeltà atteggiamenti di tradimento ma più che altro queste risposte ma anche questo desiderio di raccontare tutti quanti insieme e con voci spesso discordanti francesco d'assisi nasce principalmente da una tensione che poi è la tensione evangelica è la tensione che guida la storia ogni volta che si presenta davvero un testimone di cristo e poi la tensione evangelica che francesco in qualche modo ha saputo rinestare all'interno della chiesa allora io spero che questa breve che poi non è stata brevissima introduzione alle biografie ma è proprio una chiacchierata veloce tanto ci sarebbe da dire vi ripeto l'ho citata all'inizio lo ricito adesso per chi non volesse sentire l'inizio il libro di raul manselli uno dei più grandi studiosi che san francesco d'assisi nell'edizione maggiore l'edizio maio reddito da san paolo queste cose che sto dicendo le trovate ovviamente sviluppate in maniera più ampia ma anche sicuramente più autorevole più precisa di me allora io concludo questo nostro incontro oggi davvero molto 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 velocemente però entrando nel nostro percorso vero e proprio che è il primo passo un primo passo nella vita di francesco quindi la sua famiglia e poi un attimo quella che è stata la nascita e la giovinezza allora tutte tutte le fonti e ve ne ho citate davvero tante tutto quel materiale che è arrivato erano tutti concordi in qualsiasi momento sia arrivato della storia sul fatto che francesco d'assisi fosse di famiglia ricchissima appartenente al più alto livello del ceto mercantile della città parate bene mercantile siamo in un momento molto molto complicato in senso non necessariamente negativo della storia ma della storia dell'umanità perché perché siamo al tramonto del del feudalesimo e siamo alla nascita dei dei comuni quindi crolla in qualche modo tutta la struttura feudale sta crollando e crollerà tutta la struttura feudale nascono i comuni francesco fa parte del ceto ricchissimo mercantile non fa parte del della nobiltà e sarà qualcosa che almeno nella prima porzione della sua vita sarà il suo grande croccio no sapete il suo sogno di diventare cavaliere e cavaliere non può esserlo perché non è nobile ma c'ha i soldi ce n'ha tanti è mercante se non può fare quello che è un vero e proprio salto di specie lo chiameremo oggi in zoologia e non può fare quello però diciamo i soldi comprano quasi tutto suo padre pietro bernardonis pietro di bernardore a bernardone ha una bottega d'assisi sappiamo che è una bottega di stoffe però non produce panni di lana non produce stoffe cioè non è un tessitore ma è un commerciante commercia principalmente stoffe pregiate e noi sappiamo che le fonti sono abbastanza concordi nel ritenere che la fortuna la grande fortuna inizia proprio con pietro di bernardone la grande esplosione economica di questa famiglia che è talmente tanto grande che i documenti che ancora oggi esistono ci dicono che tutta la famiglia di francesco a venire ne godrà molto molto a lungo il fratello angelo perché francesco aveva un fratello lo vedremo fra poco ma anche i suoi nipoti godetro a lungo di questa grande ricchezza che nasce in qualche modo con pietro o bernardone pietro di bernardone non so se sapete per esempio c'è una grande disputa per capire qual è la casa natale di francesco noi oggi ad assisi andiamo a visitare casa nuova ma non ma c'è disputa per capire quali sia e perché c'è questa disputa c'è questa disputa perché questi decassi ce ne avevano tantissime avevano tantissimi terreni avevano terreni coltivati ma avevano posti in cui in qualche modo tinteggiavano per esempio le stoffe insomma c'è c'erano di fondaci in giro per le campagne d'assisi ci sono ancora oggi dei degli degli archivi catastali che ci dicono i possedimenti della francesca della famiglia di francesco d'assisi quindi una ricchezza fuori dal comune questa è una premessa fondamentale per parlare poi della vita di francesco perché è una premessa importante dal punto di vista psicologico della formazione di francesco soprattutto di quella dissipazione e poi la conseguente conversione dei primissimi anni questa ricchezza era accompagnata poi nel padre da una vera e propria mentalità capitalistica che il padre cerca in qualche modo almeno per il primo momento riesce a trasmettere anche al al figlio e poi sarà tra l'altro quella che porterà lo scontro no tra il padre e il figlio e porterà a un vero e proprio quasi disprezzo del del padre anche se non è mai espressa questa cosa però questa figura che scompare completamente dalla vita dalla vita di francesco una mentalità capitalistica la quale corrispondeva una una cultura decisamente al di sopra della norma per l'epoca sia in pietro ma anche questo in francesco e questo proprio perché erano erano mercanti quindi sicuramente scrivevano e leggevano e questo mi sembra abbastanza chiaro essendo mercanti dovevano sapere anche fare quel minimo di conti oltre ad avere ovviamente una conoscenza del latino perché perché serviva per stilare i documenti di mercanzia sappiamo che il padre commerciava stoffe preziose con la francia erano tantissimi gli spostamenti che faceva probabilmente anche con il figlio con la francia e di conseguenza dobbiamo pensare e credere che oltre al latino parlassero anche il francese forse in forma rudimentale ma le fonti per esempio spesso raccontano che francesco amava cantare in francese parlando di lui come di una predisposizione naturale a quella grande tradizione di cantori francesi che segnavano in francesco una nobiltà d'animo e di modi quasi naturale ci dice Tommaso d'Acelano ecco del padre si sa qualcosa ma non si sa tantissimo della madre si sa ancora di meno della madre non si sa praticamente niente il nome pica che è un nome però che emerge molto più molto tardi e quindi non è neanche detto che sia proprio questo il nome non spunta mai nessuna fonte che è degna di nota come per esempio la tre compagni e quindi le testimonianze dei dei cittadini di assisi viene spesso indicata come di origine provenzale e come origine lucchese queste sono le due origini della madre di francesco voi pensate a fratello sole sorella luna no la bellissima interpretazione che ne fa valentina cortese è francese parla francese ecco queste sono tradizioni molto molto tardi quindi se noi dovessimo fare un resoconto storico non potremmo prenderle per buone sicuramente era una madre affettuosa ma questo credo e spero che rientri nell'ordine naturale delle cose tutto tanto più che aveva una preoccupazione naturale per questo figlio che era cagionevole di salute e poi un figlio che era tanto simile ai giovani prima ma poi impazzito dopo perché sì noi oggi leggiamo la storia di francesco di bernardone come la storia san francesco d'assisi ma chi di voi sta seguendo è padre e madre sapete bene che forse era più che lecito preoccuparsi per questo figlio che improvvisamente sembrava essere impazzito la madre comunque ci viene presentata sotto una luce positiva dai biografi eccetto il celano come vi dicevo all'inizio no che nella sua prima biografia nella sua vita prima e la tratteggia come una donna ma addirittura quasi dai tratti volgari per correggersi dopo quando vi ripeto perché fa bene ripeterlo i cittadini da sì gli ha detto gli dicono guarda che non è vero quello che è scritto quindi diventa questa donna amabile che sembra davvero essere in secondo piano praticamente quasi mai citato c'è il fratello presentato solo come l'ombra del padre ecco il fratello angelo che viene raccontato solo in pochi passaggi delle biografie solamente per raccontare da una parte la sua avidità forse uno schema geografico per far vedere la differenza con il fratello questo non possiamo saperlo e desideroso di recuperare quello che il fratello stava delapidando del bene del padre e anche viene raccontato in alcuni passaggi come prendeva in giro questo 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 suo fratello quindi questa è la famiglia un padre una madre un fratello quando nasce francesco ve l'ho detto prima non lo sappiamo andiamo a ritroso no levando gli età l'età di francesco dalla data di morte tornando indietro sappiamo che nasce in una data che non imprecisata tra 1181 e 1182 con sulla sua nascita non mancano tanti racconti edificanti faccio una piccola parentesi permettetemela che non l'ho fatta prima voi dovete capire che quando siamo davanti alle biografie di francesco spesso siamo ovviamente se ho aperto dicendo che è morto un santo siamo davanti più che a delle vere biografie a delle agiografie quindi alle storie di santi questo rende difficile non ricostruire la storia vera di francesco perché spesso vengono raccontate cose che non sono proprio vere ma che vanno a caricare la figura del santo e ci sono due schemi agiografici molto molto classici per la nascita di un santo allora un santo viene o presentato nella sua nascita e giovinezza come e soprattutto ecco nella giovinezza come qualcosa una persona grande grande peccatore lontanissima da dio che poi come san paolo fulminato sulla via di damasco si converte quindi uno schema che serve a sottolineare l'intervento di dio oppure lo schema opposto viene sin da bambino sin da piccolo un santo raffigurato quasi come se nella culla giocasse già con il crocifisso con i rosari con i santini e tutto il resto due schemi opposti il peccatore che viene folgorato e si converte il santo subito come francesco d'assisi queste cose vengono applicate tutte e due diverse biografie applicano sia una che l'altra relativamente alla nascita non mancano racconti così racconti che davvero forse dovremmo chiamare mitologici per esempio viene raccontato che in quei giorni ad assisi camminava un uomo che con un bastone annunciava che di lì a poco sarebbe nato un personaggio importante un cantore di dio capite sentite l'ego di che cosa c'è dietro questo racconto che insomma penso che non sia proprio vero un novello giovanni battista che annuncia la nascita dell'altro cristo oppure addirittura pensate che viene raccontato che la madre aveva le doglie ma non partoriva e ste doglie vanno avanti vanno avanti per tantissimo tempo vanno avanti adesso non ricordo addirittura si parla di giorni a un certo punto l'illuminazione divina fa capire che stavano queste doglie stavano avvenendo in un luogo troppo sfarzoso allora la madre decide di scendere dove scendere nella stalla e lì finalmente partorisce nasce francesco d'assisi ecco ancora una volta un altro cristo un altro gesù racconti insomma sicuramente leggendari e spedenti a geografici che aiutano arricchiscono sempre questa figura dell'alter christus e io direi che non dobbiamo aver paura di abbandonarli questi schemi tante volte vedo il terrore che ne so anche quando ora si cerca di raccontare noi non parleremo quasi per niente dei fioretti di francesco però insomma quando si dice che il lupo di cubio forse 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 potrebbe essere un racconto un po edulcorato la gente si spaventa ecco noi non dobbiamo da persone adulte soprattutto da credenti adulti non aver paura a mollare alcuni schemi alcune alcuni passaggi la cosa che sappiamo sicuro che nasce primo genito angelo era il secondo e nasce mentre il padre era in in viaggio in francia nasce viene gli viene dato il nome nome che gli viene dato non è francesco viene chiamato giovanni un nome che sarà tra l'altro una profezia perché johanan in ebraico significa il signore ha donato e il padre torna però e dice no questo bambino io non voglio che si chiami giovanni voglio che si chiami francesco un nome che paradossalmente per noi oggi è un nome comunissimo ma all'epoca era un nome raro un nome anche se volete un pochino esotico che cosa significava significava semplicemente francese con tutta probabilità quello che si pensa è che giovanni che scusate pietro di bernardone avesse voluto in qualche modo rendere omaggio alle ai suoi commerci con con la francia non sappiamo praticamente niente della sua giovinezza non sappiamo niente della sua formazione culturale se non quello che abbiamo abbiamo ho detto prima insomma il latino l'italiano e tutto c'è e tutto il resto un dato però non sappiamo che si aggiunge alla sua formazione culturale che sono le sue conoscenze bibliche francesco una conoscenza biblica ampia e precisa che sembra più che da uno studio vero e proprio biblico insomma era abbastanza improbabile all'epoca un'epoca in cui è difficile che in una casa ci fosse un'opera biblica completa una bibbia completa anzi era praticamente impossibile sembra più che altro la sua conoscenza nascere dalla partecipazione alla vita liturgica quindi alla alla messa e a tutto il resto ma comunque una conoscenza profondissima che lui ha saputo utilizzare in mille poi altre composizioni ecco biblici sono in tutte le composizioni francesco penso ovviamente nella sua più famosa il cantico di frate sole ma anche in tante altre in tante altre composizioni quindi una con una conoscenza di base ma di livello sempre leggermente leggermente più altro più alto la tre compagni ci dice che francesco era un collaboratore del padre molti film che abbiamo visto l'abbiamo visto iniziare nella bottega del padre anche come un scaltro negoziatore ci dice il celano quindi anche uno che ci sapeva fare con gli affari no un mercante già formato ecco io diciamo che mi fermo qua ma mi fermo qua lasciandovi l'ultima nota che sarà quella con cui apriremo la volta prossima perché vi sto dicendo un uomo di cultura un uomo con una formazione ben precisa con conoscenze bibliche ma anche un mercante scaltro ma soprattutto perché sto usando l'espressione un uomo perché questa cosa è fondamentale che ce la ricordiamo sempre è fondamentale che ve la ricordiate la conversione di francesco d'assisi non è la conversione di un giovanetto pieno di sogni e con la testa fra le nuvole che va appresso alle farfalle o come ci ha lasciato zeffirelli in quello che secondo me è l'opera più bella ma anche molto troppo un po troppo poetica a volte che corre appresso agli uccellini sopredetti la conversione di francesco è la conversione di un uomo fatto nel medioevo vent'anni erano sufficienti perché uno fosse un uomo fatto e maturo per la carriera vent'anni sei maturi per la carriera politica per la carriera militare e per la carriera affaristica proprio come fa francesco d'assisi francesco nella bottega del padre è un uomo e sarà questo uomo fatto che a un certo punto della propria storia succede qualcosa di straordinario nel senso più pieno del termine qualcosa che esce fuori dall'ordinario dei suoi giorni di mercante e che lo porterà a vivere una serie di inquietudini inquietudini che lo accompagneranno piano piano verso l'incontro fondamentale che è l'incontro prima con il lebroso poi con il crocifisso di san damiano ma che è con l'incontro con dio questo sarà l'argomento del nostro prossimo incontro di venerdì quindi venerdì prossimo sempre le nove la modalità resterà questa la parte bella è che adesso non posso chiedervi se avete domande ma tanto davvero prendete questi come racconti e ascoltatevi ascoltatevi se ci sono questioni magari potete scriverle strada facendo io se ci qualcosa che posso rispondere rispondo ma ecco dico una volta ogni tanto lasciamoci andare ascoltiamoci questi racconti e godiamoci vi ricordo anche adesso alla fine che queste registrazioni rimarranno comunque sul canale della barba daronne dentro cui siete entrati per vederle non c'è bisogno che rimandate email per conferma in nessun modo perché venerdì prossimo alle nove io starò qui di nuovo parlando da solo con il mio cellulare ma sapendo che ci siete tutti quanti voi dall'altra parte vi ricordo sempre per chi non è arrivato che il canale che ci ospita il canale della barba di aronne il mio canale per dei piccoli video di ebraismo per i cristiani intanto se vi va guardateveli questi video vi chiedo di mettere l'iscrizione al canale che così mi aiutate un pochino a crescere ho usato questo canale non per attirarvi nella trappola di farvi vedere video ma perché è un canale che ha più di mille iscritti e questo mi permette di fare le trasmissioni dal vivo io vi ringrazio vi auguro buona serata e ci vediamo venerdì prossimo con la conversione di francesco ciao